Il suo esordio da giovanissimo è stato come coprotagonista del film Così ridevano, diretto da Gianni Amelio, pellicola premiata con il Leone d'Oro al Festival di Venezia nel 1998. Nel 2000 è stato candidato ai Nastri d'Argento come migliore attore protagonista per L'interpretazione nel film Prime luci dell'alba, diretto da Lucio Gaudino. Nel 2000 è Mauro nel film I Cento Passi, diretto da Marco Tullio Giordana. Partecipa nel 2004 nel film Vento di Terra, regia di Vincenzo Marra. Dal 2001 al 2005 è stato uno dei protagonisti nelle prime quattro edizioni della serie Mediaset. Carabinieri, nel 2006 ha partecipato alla miniserie Rai, Eravamo Solo Mille, diretta dal regista Stefano Reali. Sempre nel 2006 ha interpretato il ruolo del giudice Rosario Livatino nel film documentario Luce. Verticale, diretto da Salvatore Presti. Nel 2007 partecipa nel film Tu Famiglie Stai retto da Romano Scavolini recitando per la prima volta, in inglese, nel 2014 si presta per un cameo nella serie Mediaset Squadra Antimafia. Oltre ad aver recitato in vari film italiani, ha partecipato a film stranieri. Ha infatti recitato nel film di James Ivory, The Golden Ball, e in Cristi Malris o WN Double Entry. Diretto da Paul Tickel, nel 2014 iniziano le riprese della nuova serie Rai, La Catturandi, dove interpreta il ruolo di Zach Lombardozzi Componente della sezione Catturandi di Palermo. Serie andata in onda settembre 2016 su RA1.